Grazie, benvenuti. Oggi presentiamo insieme una velibera che abbiamo appena votato qualche secondo fa, in giunta, che individua gli indizi dell'amministrazione comunale in tema di Movida. Questo nasce da un percorso interno dell'amministrazione che si è svolto in questi mesi, che ha accolto, ha provato a leggere la situazione che tutti sapete è cambiata nottevolmente in questi anni, in un scenario decennale passato da 5 a 15 località, ha aspetti positivi e importanti per la nostra città in relazione alla capacità di attrarre, di offrire luoghi di divertimento, anche di relazione per tutti i nostri cittadini, tutti i turisti, le persone che vengono e anche un'offerta di lavoro oggi significativa. E quindi dentro questo fenomeno che noi leggiamo come un segno di una città viva e capace di aggregare e di offrire luoghi, momenti, attività per stare insieme e opportunità di lavoro, ci sono alcune situazioni di criticità e quindi il lavoro che abbiamo provato a fare è identificare un po' bene la situazione, andare a fare una ricognizione di tutte le normative e le possibilità che hanno le amministrazioni locali alla luce della normativa vigente e anche della giurisprudenza che come sapete recentemente ha anche cambiato, ha preso posizione in quello che è quell'equilibrio non sempre facile che siamo tutti chiamati a cercare di far stare appunto in equilibrio tra le esigenze della vita sociale, relazionale delle persone, le esigenze delle attività imprenditoriali e commerciali che lavorano in questo ambito e le esigenze dei cittadini che vivono la città e in cui nel vivere la città c'è anche l'aspetto di risiedere, di avere le ore di riposo e avere il proprio quartiere da vivere pienamente. Quindi dentro questo equilibrio noi dobbiamo cercare e anche diciamo che la normativa e la giurisprudenza hanno incominciato a mettere alcuni paletti maggiori. In questa ragione noi abbiamo provato a capire e indicare in questa delibera quali sono le possibili azioni per mettere a sistema queste e non trattare le singole problematiche e anche interloquire in modo sistematico con tutti gli interlocutori che vanno da chi gestisce le attività ai comitati residenti eccetera. La delibera è firmata da tre assessori, mancava la terza che aveva un'altra delibera e quindi è potuta arrivare solo adesso. Quindi le linee sono queste, prima la formalizzazione di questo gruppo che continuerà e sarà appunto un gruppo di riferimento per governare tutti questi processi, dotare maggiormente di strumenti di monitoraggio mettendo insieme tutte le informazioni interne all'amministrazione e anche all'esterno anche perché negli ultimi due anni abbiamo avuto anche una relazione importante in sede di prefettura col comitato ordine e sicurezza pubblica ma soprattutto con un protocollo firmato insieme nell'estate del 2021, il 2 agosto del 2021 e poi prorogato nel 22 che vede tanti attori oltre alla prefettura eccetera eccetera e ci vede lavorare insieme su questo tema. Quindi costituzione e formalizzazione di un gruppo di regia da questo punto di vista, monitoraggio di tutte le informazioni interne ed esterne su questo tema, identificazione di indici di criticità perché appunto 15 zone della città ma non sono tutte uguali ed è importante anche nell'attuazione poi dei provvedimenti non fare dei provvedimenti generali e generici ma legati alle singole specificità quindi avere degli indici specifici e queste sono un po' più le azioni di metodo che aiutano ma sono fondamentali perché danno senso, significato e anche aiutano a non fare cose generiche o generaliste o peggio che poi vanno a colpire anche dove non è necessario o viceversa lasciare degli spazi dove invece è opportuno intervenire. Invece le azioni più operative riguardano alcuni atti che dovrà fare anche il Consiglio Comunale, Giunta o Atti dei Dirigenti e abbiamo messo un po' in fila e quindi sono cose che faremo da adesso in poi. Un regolamento per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mentre a parte delle attività commerciali legato alle particolari situazioni differenti quello che anche nel dibattito c'è la zona rossa, gialla, più intensa, meno intensa che regola le nuove autorizzazioni commerciali e cioè che laddove ci sono situazioni che sono crescite e che hanno una certa criticità ci permette di regolare le nuove aperture. Questo è un principio che come sapete nella normativa poi la mia collega su questo ha esperte e competenza cioè bisogna regolare meglio e quindi dove c'è questi indici di criticità incominciamo a introdurre delle regole per contingentare questi aspetti. Secondo la modifica del regolamento di polizia urbana in relazione al tema dell'uso del vetro voi sapete che nelle zone della Movida abbiamo in essere delle ordinanze che sono contingibili e urgenti che vietano dalle 22 alle 6 l'uso del vetro sia in termini di somministrazione che a sporto eccetera questo viene fatto con le ordinanze contingibili e urgenti che sono deboli devono essere appunto contingibili quindi durano 30 giorni poi devono essere ripresentate eccetera mentre con la modifica del regolamento diventano strutturali questo è un intervento che ha una sua positività e quindi lo vorremmo rendere strutturale. Poi l'attuazione dell'articolo 15 del regolamento sulle occupazioni leggere quelle diciamo per intenderci covid che poi come sapete sono stati frutto di un lavoro intenso che ha fatto adesso del cappello sulla regolamentazione per poter introdurre limitazioni di orario in quelle situazioni particolari che lo richiedono. Oggi ad esempio questo c'è in Corso Garibaldi nel tratto di Corso Garibaldi dove c'è stata appunto un'intensità particolare c'è stato anche ricorso e contro ricorso e abbiamo individuato una limitazione dell'orario in quel caso per l'asporto e per l'aspetto esterno. Quindi attuare quel regolamento che deve rifarsi a quei criteri e quegli indici che abbiamo e non generali. Poi abbiamo le sanzioni accessorie sempre nel regolamento sono previste le sanzioni accessorie cioè che vuol dire che se uno, una persona, un soggetto gestisce male il deor nel senso che lo fa più grande di quello che è previsto o se deve chiudere l'attività alle 24 lì lo tiene aperto anche dopo c'è una sanzione accessoria che è economica e non è rilevante cioè c'è una sanzione ordinaria che è appunto quella economica con la sanzione accessoria noi permettiamo di cioè possiamo incidere sulla sospensione per alcuni giorni in maniera progressiva e quindi essere più efficaci da questo punto di vista e quindi introdurre queste modalità poi ci sono azioni invece più promozionali che riguardano tutte le attività legate alla popolazione giovanile legate in generale all'attivazione, alla prevenzione anche sanitaria, all'alcol eccetera un'azione che riguarda la polizia locale sia formativa e di migliore organizzazione delle diverse unità che operano come polizia locale su questo e poi le relazioni con gli stakeholder che sono appunto la prefettura gli altri soggetti a livello delle imprese le rappresentanze delle attività commerciali i comitati, i municipi e cioè le relazioni con tutti i soggetti per riuscire anche a valorizzare quelle esperienze positive di patto che hanno aiutato a valorizzare chi ognuno per la propria parte si fa carico di un'attività cito su questo ad esempio il lavoro della sicurezza sussidiaria che è un'attività molto importante che segna questo fatto di corresponsabilità di un'area in questo caso di soggetti privati sostituiti dal comune ma che è molto importante questo è un po' il quadro lascio la parola alle colleghe grazie io parto da due punti di principio poi scendo nella parte più tecnica il primo punto di principio è che siamo qui a trattare di queste misure e di queste scelte di queste linee di indirizzo per prendere poi delle misure trattando del tema della mala movida questo lo voglio precisare perché la movida nella sua accezione positiva è appunto un fatto invece di vitalità delle città di riqualificazione di tantissimi quartieri gli stessi Deor e appunto tutto quel lavoro che abbiamo fatto di regolamento poi Deor volgarmente detto perché in realtà non sono solo Deor ma sono occupazioni leggere temporanee e anche fino alla modalità più permanente che è quella del Deor tutto quel lavoro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto appunto credendo che la città in alcuni quartieri sia trasformata è molto più vitale molto più attrattiva che quel fenomeno è un fenomeno positivo e che il fatto che ci sia la possibilità anche di stare seduti contingentati in realtà aiuta a essere più controllati a essere più in un luogo anche all'esterno ma magari chiuso appunto il Deor e quindi a mantenere all'interno di quella parte tutti i rumori e tutti i fastidi poi c'è ci sono delle aree della città dove questa cosa ovviamente è più fuori controllo dove quindi la Movida diventa una mala Movida e ovviamente in questo caso bisogna invece tener conto della quiete pubblica dei cittadini credo ed è il secondo punto di principio da cui parto che il nostro ruolo come amministratori pubblici sia quello di contemperare interessi diversi quindi l'interesse di chi è più giovane cerca una città vitale e attrattiva l'interesse dei cittadini che cercano il diritto al riposo il diritto alla quiete pubblica perché li risiedono e il diritto della categoria dei pubblici esercizi degli imprenditori dei lavoratori di quella categoria di fare appunto il loro mestiere l'equilibrio tra questi universi però sta poi a noi trovarlo e tutte queste misure vengono messe in campo per questa ragione che cosa vado sulla parte più tecnica cosa significa significa che avvieremo a brevissimo un percorso che non può essere troppo lungo che avrà quindi una durata abbastanza insomma breve di studio di tutte le aree in realtà lo studio è già stato fatto come diceva l'assessore Granelli di studio di tutte le zone e tutte le aree della città in modo tale da dividere la città nelle varie zone capire quali sono più critiche e quindi dove c'è necessità di un intervento ripeto perché c'è il massimo diritto alla quiete pubblica e alla salute dei cittadini e individuare invece delle altre aree dove la situazione è ancora assolutamente naturale e positiva altre aree dove invece addirittura andrebbe stimolato ulteriormente perché c'è necessità di una rigenerazione urbana e riqualificazione urbana che passa anche molto dalla gamba del commercio questo lavoro e questo studio a che cosa porterà porterà a costruire un regolamento regolamento dei pubblici esercizi che faremo appunto in queste settimane insieme a tutta una serie di incontri con le associazioni di categoria ovviamente quindi scriveremo sostanzialmente insieme il regolamento con i comitati dei cittadini che abbiamo già avuto modo di incontrare con l'assessore Granelli anche quando avevamo scritto il regolamento appunto delle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere e permanenti quindi associazioni di categoria comitati dei cittadini ovviamente anche con tutto il lavoro dei municipi non c'è qui l'assessora Romani ma abbiamo avuto modo di parlarne anche con lei e di coinvolgerla in modo tale che anche i municipi siano in prima linea per cercare ovviamente ognuno conoscendo la propria parte di territorio siano ascoltati e il lavoro sia frutto appunto di un lavoro sinergico fatto tutto quanto insieme arriveremo quindi alla stesura di un regolamento di pubblici esercizi regolamento che passerà ovviamente dal consiglio comunale in ultima battuta quindi con l'approvazione del consiglio comunale ci auguriamo di poter mettere in essere una mappatura della città dove si individuano le zone più critiche le zone rosse poi capiremo come chiamarle se rosse gialle verdi a seconda comunque le zone più complicate le zone dove invece la situazione è positiva le zone dove invece addirittura ci sarebbe bisogno di maggior presenza e le ordinanze piuttosto che le varie misure di cui adesso abbiamo anche in alcuni casi parlato saranno una conseguenza di quelle zone quindi l'ordinanza per esempio degli orari ha fatto perfettamente l'esempio di Garibaldi in questo momento ma non significa che è un'ordinanza che vogliamo mettere in essere in tutta la città spalmata ma significa che laddove necessario nella zona che è stata identificata come zona rossa e zona critica qualora l'organismo di monitoraggio verificasse che effettivamente quel tipo di ordinanza è necessaria allora si applica quindi non c'è un elenco di ordinanze che vanno per tutta la città ma saranno a seconda delle zone di riferimento e del regolamento dei pubblici esercizi e comunque si applicano nel caso in cui l'organismo di monitoraggio che è sempre in costante lavoro ed è sempre in essere alza la mano e dice c'è una situazione di criticità in questo caso dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire con questo quella misura a questo si affiancano ovviamente tutte delle politiche intese come politiche giovanili ma di educazione di informazione che in realtà stiamo già facendo perché nel tavolo con la prefettura che condividiamo costantemente anche con le associazioni di categoria già questo tipo di interventi e di azioni oltre alla sicurezza sussidiaria ricordo il bando l'abbiamo approvato ed è in questo momento aperto di 120 mila euro per dare quindi contributi agli pubblici esercizi per avere una sicurezza sussidiaria oltre a quel bando e a quella misura ci sono tutta una serie di politiche giovanili a supporto per aiutare appunto anche i più giovani a gestire delle situazioni complesse a capire l'alcol come funziona e parti di questo tipo su cui lascio la parola l'assessore l'assessore arriva abbiamo fino alle 12 vero? io direi che io sì allora tanto grazie a tutti di essere qua perché penso che oggi sia una giornata fondamentale per compiere alcuni passi importanti verso due fenomeni importanti i miei colleghi hanno illustrato benissimo la delibera movida io aggiungo un pezzo che è quella per le linee di indirizzo per l'individuazione tramite procedura ad evidenza pubblica di sponsor tecnici per la realizzazione di un palinsesto in piazza Duca d'Aosta quindi davanti a stazione centrale piazza Duca d'Aosta lo sappiamo è stata teatro negli ultimi anni di una situazione complessa a causa del progressivo deterioramento del tipo di utenza abituale dal tavolo del turismo dove ci incontriamo tre o quattro volte all'anno con gli albergatori con gli esercizi commerciali con tutti gli stakeholder della città che hanno a che fare con questa importante attività è stato segnalato a più riprese come il contesto venutosi a creare in piazza Duca d'Aosta metta di fatto in difficoltà gli sforzi quotidiani che imprenditori associazioni fondazioni compiono su quella piazza ovviamente il rischio di incremento del degrado è connaturato in tutte le grandi città del mondo ma quello che vogliamo fare con con l'avviso di sponsorizzazione che verrà pubblicato nel giro di un paio di settimane è quello di provare a ridare la dignità che quella piazza che è il nostro biglietto da visita per turisti per tutti coloro che a Milano si recano per lavoro e non solo si merita cerchiamo quindi chiediamo a tutti gli stakeholder della città quindi associazioni fondazioni con imprenditori soggetti del terzo settore di mettersi in gioco chiediamo a chiunque abbia una buona idea per animare la piazza che si tratti di un evento di intrattenimento o di un'iniziativa culturale sportiva di qualunque tipo di presentarcela in modo da realizzare un palinsesto che possa veramente durare tutto l'anno il comune ovviamente farà la sua parte abbattendo del 100% il canone di occupazione suolo per quelle che saranno le attività cosiddette istituzionali quindi di enti del terzo settore associazioni fondazioni e abbatteremo invece allo 0,50 le attività di tipo commerciale questo nell'ottica ovviamente di dare priorità a quello che gli stakeholder che siamo certi si presenteranno cercheranno di fare per la nostra città c'è una forte richiesta ovviamente di sicurezza di presidio dei manufatti e di quello che verrà realizzato in piazza Duca d'Aosta per appunto seguire quello che è stato un ottimo esempio di collaborazione pubblico privato nel periodo di Natale con la pista di pattinaggio che ha portato a soddisfacenti risultati per quello che era il decoro della piazza 12.01 siamo stati perfetti se ci sono domande grazie 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 Quella verrà prorogata qualche giorno dopo la scadenza, appunto come dicevo c'è un aspetto amministrativo per cui possono durare solo 30 giorni e non può essere diciamo senza soluzioni di continuità quindi verrà prorogata qualche giorno dopo sostanzialmente uguale e anzi il contenuto è abbastanza legato alle bevande, è abbastanza quello che vorremmo mettere anche nel regolamento. Scusate, siccome devo scappare all'altra conferenza stampa, se ci sono domande sul tema regolamento pubblico esercizio cose del genere, altrimenti vi lascio in ottime mani. Autunno. Deve fare il suo corso, cioè dobbiamo fare tutti gli incontri nella parte estiva. Le parti che troveranno maggiore attuazione adesso sono quelle che sono già supportate dal regolamento per dire l'ordinanza che continua oppure il tema delle sanzioni accessorie che ha già il regolamento e quindi ha bisogno solo di una determina dirigenziale su cui ci abbiamo anche già un po' elaborato e quindi quelli attuativi potranno alcuni, questi aspetti in cominciare ad agire diciamo in questa stagione estivo-tunnale, mentre quelli che guardano il Consiglio Comunale i tempi sono più ampi. L'individuazione delle aree esiste ed è quella tra l'altro che usiamo nel protocollo con Prefettura. Poi il tema qui non è quello solo di dire c'è l'area l'azzaretto e ne abbiamo 15 identificate e nel protocollo della Prefettura esiste già non solo il nome ma anche le zone, le vie, gli ambiti eccetera all'interno di questo. Quello che dobbiamo affinare è le singole specifiche caratteristiche e anche all'interno i punti perché nelle zone della Movida non è che è tutto uguale. Se dobbiamo fare degli interventi legati a orari, attività, bisogna ammirare al contesto anche perché ci sono differenti comportamenti dei cittadini, degli esercizi eccetera e quindi noi non vogliamo fare una cosa generalizzata perché il rischio è che la cosa generalizzata non risulti efficace e se la misura non è correlata ai soggetti e alle specificità appunto diventa inefficace e magari inefficace rispetto a chi non segue le regole a bisogno e invece va a toccare gli aspetti che sono positivi. Quindi il monitoraggio è quello e anche una cosa che si modifica nel tempo perché anche i passaggi all'interno delle situazioni sono diversi. Se guardate anche ad esempio in Lazzaretto ci sono degli esercizi, dei tratti di via che alle due si concludono l'attività, alcuni che vanno avanti fino alle quattro, alcuni che hanno un utilizzo molto esterno, altri più interno e quindi il monitoraggio è questo. Diciamo che è legato più che a questi alla giurisprudenza e cioè alle sentenze della Cassazione e dei tribunali emessi appunto Torino-Brescia per intenderci, noi ci siamo rifatti nel senso che chiaramente le sentenze di Cassazione fanno giurisprudenza e quindi abbiamo cercato non tanto nelle misure ma nelle motivazioni e quindi andando a cogliere quanto quelle sentenze che fanno giurisprudenza ci aiutano a contemperare le esigenze diverse perché il tema è capire come mette in relazione la positività, la richiesta di spazi di relazione, divertimento, spazio di vita della città e dei cittadini e il bisogno di tranquillità e tutelare che poi sono gli stessi cittadini perché la frequentazione delle zone di Movida tranne appunto alcune criticità più di sicurezza su altri predatori o su alcuni aspetti è fatta dai nostri cittadini e le persone che vivono quindi abbiamo utilizzato le motivazioni soprattutto di quelle sentenze per andare a cogliere le indicazioni di come oggettivare quell'equilibrio sì è una bella decisione non lo sappiamo adesso non lo sappiamo questo l'unica diciamo esperienza di questo tipo è quella legata a Corso Garibaldi dove lì ci sono stati anche contenziosi, ricorsi eccetera e si alla fine arrivate a una soluzione che prevede il termine della somministrazione del 22 e dell'utilizzo dei DEOR alle 24 ma è un caso e ripeto anche nelle tornando proprio alle sentenze e alla giurisprudenza la difficoltà ma anche il ragionamento che dobbiamo sempre più fare è quello di correlare le specificità perché non è possibile generalizzare e sarebbe sbagliato generalizzare quindi anche sugli orari e sui provvedimenti sarà fondamentale le caratteristiche come avviene del contesto delle abitazioni, degli accessi eccetera e su questo trovare specificità per cui abbiamo preferito agire su questo e non su un provvedimento che dice in città si chiude alle ore X quello di Garibaldi è un'esperienza che è stata individuata e cresciuta lì non è non fa testo cioè non ripeto non c'è un orario uguale per tutti una cosa lineare perché le caratteristiche sono diverse il tema è appunto questo laddove c'è e nella relazione abbiamo visto degli indici significativi di cambiamento in alcune zone cioè i numeri sono sono stati significativi in questi anni e quindi andiamo a dire che laddove c'è un'elevata concentrazione e laddove l'elevata concentrazione è uno degli elementi degli indici che crea criticità perché appunto non è solo il tanto il poco è anche il tanto il poco di tipologie ad esempio che hanno molta attività sull'esterno e questo crea più problemi rispetto all'attività interna perché l'attività interna se nel rispetto di tutti i piani acustici eccetera si interviene si danno le prescrizioni ma gli stessi operatori prevedono insonorizzazioni di qualità eccetera il problema è la concentrazione che aggruppa l'attività o anche di situazioni dove c'è anche un solo due soli esercizi che però hanno un utilizzo dello spazio pubblico distorto quindi in questo caso nelle zone più critiche potremmo mettere un blocco delle nuove autorizzazioni o comunque una limitazione una contingentazione delle nuove in relazione tenete comunque presente che c'è molto cambiamento e quindi ci sono anche successioni cioè quando uno chiude un altro apre eccetera quindi bisogna gestire tutti questi aspetti avanti che vuol dire coefficiente zero quando l'azienda mette il logo su quella porzione di insegna corrispettiva appunto del cartello si paga lo 0,50 quindi 0,50 per 50 cm un metro venti metri non solo nel senso probabilmente c'è l'aspetto commercio sicurezza polizia locale eccetera c'è tutte le attività giovanili ma c'è anche il welfare che ha alcune attività l'assessorato alla Gaia Romani con tutto il tema del centramento dei municipi per cui lo stiamo costruendo probabilmente avrà anche una diciamo conformazione variabile nel senso che ci saranno è chiaro che i nostri assessorati sono e le nostre direzioni sono quelle primariamente interessate poi a secondo anche delle attuazioni ci possono essere diversi no è chiaro che probabilmente nella fase iniziale avremmo una frequenza elevata e molto molto lavoro diciamo e poi man mano perché adesso dobbiamo un po' definire alcuni elementi sì sono sì perché alcune ad esempio nel 15 c'è navigli da assenati cinese che invece poi viene aggruppata sono 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 quelle le ultime due diciamo introduzioni nel rinnovo del protocollo in prefettura avevamo inserito Sarpi e Bicocca l'anno scorsa che erano state aggiunte grazie a Leonardo da Vinci grazie a Leonardo da Vinci sì sì però è molto più circoscritta dell'alimento piccolino per dire prima citavamo le modifiche degli esercizi no quando diceva il rispetto al 2000 il dato odierno del 2022 rispetto al 2003 porta un 58 per cento di aumento dei pubblici esercizi dal 2023 dal 2003 al 2022 sono quasi 10.000 ecco questo è segno di una ricchezza della città perché non dimentichiamo che questo è poi un elemento che aiuta a Milano ad essere attrattiva sul turismo a soddisfare un bisogno di socialità dei cittadini milanesi e milanesi lo dico in senso lato ecco però appunto va regolato quindi questo dato anche dell'aumento non è in sé negativo perché vuol dire capacità attrattiva risposta e vuol dire lavoro e sapete quanto anche su questo stiamo lavorando con prefettura e con le associazioni di rappresentanza per promuovere anche il lavoro regolare il lavoro serio qualificato eccetera che è un elemento importante della nostra città e quindi però con questi numeri è necessario lavorare e intervenire anche alcune attività che sono avute in questi anni ad esempio anche la stessa prima parlavamo di navigli d'assenetti cinese prima era molto più puntuale c'è stato un allargamento legato a azioni dell'amministrazione scelte degli esercizi e quindi questo aiuta a costruire una città migliore per tutti grazie mille grazie a tutti